Ancora più veloce. Quanto tempo ci metteremmo ad arrivare in Marocco? Fai conto che siamo già lì. Vieni, facciamo piano. Non ti preoccupare, rompa come un giro. Sì, non vedo l'ora di vedere il Marocco all'alba. Anche io, darling. Un momento, un momento! Fuppini! Dove credete tentare? Lontano da lei. Tanto lei, stia lontano da lei, da mia sorella Melona. Sì, squaini. Rompe proprio questo tuo fratello. Ehi, ballambusto! Ehi, spassimando! Non mi faccio giribaldi se non lo prendo più il coppino e lo strometto da casa Melone perché qui siamo a casa mia e casa Melone! È chiaro? È chiaro? È chiaro? Senta, ma perché non se ne va a dormire? Guardi che io sono grande e vaccinato. Grande lo vedo. Vaccinato ho dei dubbi perché non mi risulta sia ancora stato inventato il vaccino contro una stronzaggine e lei ha la malattia stampata sul volto! Ho capito. Anna... vero! Grazie a tutti.